Parole di lode dell'allenatore per la squadra e con uno zirksi che ora inizia anche a segnare o. Una grande fiducia in tutti i nostri ragazzi. Siamo una squadra giovane. Ma l'importante più dell'età è l'ambizione e il desiderio di ciascuno. Joshua è accento grave un ragazzo fantastico che sta lavorando molto bene. Sta guadagnando la stima pubblico e ha la giusta fiducia del club e suo allenatore. Anche nelle prime due partite senza punteggio ha fatto molto bene.